Primi allenamenti post-pasquali per il Monte Varchi che dopo il riposo di questo ponte è chiamato a svolgere sessione quotidiana da oggi fino a venerdì ogni dì alle 18 al Brilli Peri per preparare la trasferta contro il Firenze Ovest, penultima forza del campionato, ma che ricordiamolo nel match di andata si arrese solo e soltanto a rigore di Vangi a metà ripresa. I fiorentini di Brozzi che giocano al Paoli sono reduci da ben 5 pareggi consecutivi, compreso il deludente 2-2 di Campi Bisenzio nel turno prima della pausa e prima di questa serie che va avanti dal 21 febbraio c'era stato anche il successo sul Porta Romana per 1-0. Sei turni senza sconfitte ma che non servono per il momento ad evitare il penultimo posto in graduatoria ed un calendario che dopo l'Aquila vedrà anche sfidare sempre tra le muramiche la Lignanese facendo dei rosso-blu, identici colori sociali con il Monte Varchi, degli arbitri per la vittoria finale del campionato di eccellenza. Fuori ancora la Sheb, in casa Monte Varchi, potrebbero essere recuperati sia Menichetti che Ciardini mentre Sorbini rientra dopo il turno di squalifica. Attendendo magari notizie buone dagli altri campi in contemporanea, per l'Aquila esiste la vittoria come unico risultato accettabile.